Il rischio è quello di essere persone profondamente false, figli e nipotini di quei farisei con cui Gesù ha avuto sempre da litigare. È un sottile farisaismo, potrà essere meno consapevole, ecco tutto quello che volete, non occorre che drammatizziamo troppo la cosa, però sostanzialmente è così. Allora ecco questa libertà che viene meno, la libertà che è un bene umano, tutti vogliamo, non stiamo parlando di essere buoni, di essere carini, di resistere alle tentazioni e di essere virtuosi. Qui si tratta di qualche cosa che viene ancora prima, anche perché la virtù, che virtù è se non è espressione di libertà interiore? La libertà è ciò che rende una virtù virtuosa, ma se non c'è libertà interiore quella non è virtù. Ecco allora attenzione a questa paura che abbiamo, la non libertà come si manifesta come paura, come tensione, come preoccupazione, come guardare quello che fa l'altro, invidia, rabbia, ecco tutti fenomeni di non libertà. Non sono anche queste cose peccate in sé, dicono qualche cosa che viene ancora prima e che forse è ancora più grave, perché manca la consapevolezza. E dunque ecco che dicevamo, diciamo un sacco di preghiere e non preghiamo mai, facciamo la lezio che non arriva mai alla dilezio. Se la lezio non diventa dilezio, che cos'è? È semplicemente una pratica di pietà, formula orribile creata non so da chi per dire una pratica di pietà, come dire un qualche cosa così di operativo che non coinvolge il cuore. 6 o 7 che sia, la libertà di chiedersi il massimo e di convertirsi. La libertà di chiedersi il massimo, capite? Ecco questi problemi, sempre parliamo di problemi 2, 3, 4, problemi di natura psicologica, limitano in te la libertà di convertirti. Dunque celebri la quaresima, ricevi la cenela sulla capoccia, magari fai anche qualche mezzo digiuno quando ti riesce, soprattutto se sei stato deciso dalla comunità, però di fatto non c'è la conversione, non c'è il chiedersi il massimo, no? Che è come qualche cosa di naturale, cioè quando uno, nella misura in cui uno si lascia attrarre da ciò che è vero, da ciò che è bello, tende a conseguirlo, dunque fa di tutto. Ecco, quel fa di tutto è come chiedersi il massimo. E perché non c'è questa libertà? Perché ci illudiamo, e la illusione è un'altra espressione di mancanza di libertà, che la mediocrità sia da preferire alla radicalità. Capite? Ci illudiamo che la mediocrità sia da preferire alla radicalità. E guardate, questa è una convinzione profonda, eh? Quanti pensano che essere radicali, beh, un po' troppo, dai, mica posso complicarmi la vita. Capite? Questa è l'espressione di questa frase, no? Uno che dice radicalità, no, un po' troppo, dare il massimo sempre, mica posso così essere, avere questa fissazione in mente, mi disturberebbe eccessivamente l'esistenza. Ecco, queste sono espressioni esteriormente corrette, perché sembra che ci sia tanto buonsenso in una persona che si esprime così. No, una persona che dica, sì, va bene, consacrato a Dio, dedito all'annuncio del suo regno. Però, insomma, attenzione, anch'io ho i miei limiti, devo tenere conto dei miei limiti, anche Dio ne tiene conto, figurati, e dunque non posso mica sempre lì a dare il massimo. Capite? Sono tutti meccanismi difensivi con i quali esprimiamo questa mancanza di libertà, che in termini diversi si potrebbe dire che la mediocrità è meglio della generosità totale. E capite che questa è un'espressione che dice una mancanza di libertà, vuol dire che non hai abbastanza sperimentato che invece la vita dell'essere umano, l'essere umano in sé stesso, dunque uso l'indicativo, non l'imperativo, l'essere umano in sé stesso è felice, cioè sarà felice solo se si dona totalmente, radicalmente. La felicità viene dopo il dono radicale di sé. Questa è la vera felicità ed è quella per la quale l'uomo è fatto, capite? L'uomo è fatto così, non il cristiano, non il credente, non il consacrato, non tra i consacrati quei due e tre che hanno preso sul serio il discorso della santità, ma ogni essere umano è fatto così. Quando in noi funziona, comincia a funzionare un ragionamento che giustifica il contrario e che si veste di buon senso, come quello che dicevo prima, va bene, sì, donarsi, però fino a un certo punto mica posso essere esagerato ed eccessivo, capite? Questi sono tutti meccanismi difensivi con i quali uno cerca di proteggersi, di difendersi da qualche cosa che pensa che sia negativo, che pensa che sia invece il contrario della felicità, cioè siamo nella libertà relativa, la libertà condizionata. In te non c'è la libertà invece di arrivare a dire la felicità è solo quando io mi dono totalmente, che vuol dire ho scoperto, donarsi totalmente cosa vuol dire? Ho scoperto un motivo, ho capito che la mia vita ha senso solamente quando io me la gioco al cento per cento. Ecco, allora c'è una persona che si sta muovendo liberamente, al contrario invece c'è il solito gioco di questa parte di me che condiziona una parte di energia ad andare nella direzione contraria e questo perché è falso? Perché al tempo stesso ho fatto la professione contraria, sto dicendo al mondo che io invece dedico la mia vita totalmente ad un'altra causa, la causa di Dio, la causa del regno, capite? Questo è profondamente falsificante.